Alla vicepresidenza, l'assessore alla cultura e allo sport Mario Anzi, assessore alle finanze Barbara Zilli, assessore alla salute, politiche sociali e disabilità con delega alla protezione civile Riccardo Riccardi, assessore al patrimonio, demanio, servizi generali, sistemi informativi Sebastiano Callari, assessore alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scocci Marro, assessore alle attività produttive e turismo Sergio Bini, assessore alle risorse agroalimentari forestali e ittiche Stefano Zagner, assessore alle infrastrutture e territorio Cristina Almirante, assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e migrazione Pierpaolo Roberti, assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famigliare Sierosolen. Come capite quindi è una giunta che va in, penso, totale, in continuità con la precedente, di questo ne sono orgoglioso. Otto assessori su dieci confermati, la giunta Fedriga Bis si apre nel segno della continuità con pure i record di Riccardo Riccardi e Alessia Rosolen al terzo mandato personale di una squadra di governo del Friuli Venezia Giulia, il precedente per entrambi con tondo presidente. I nuovi ingressi arrivano per due esponenti di Fratelli d'Italia, il friulano Mario Anzil che oltre ad ereditare cultura e sport da Tiziana Gibelli diventa vicepresidente e la denonese Cristina Amirante che eredita le infrastrutture da Graziano Pizzimenti. Quanto alla necessità o meno per gli assessori eletti in consiglio regionale di dimettersi dall'incarico d'aula, il presidente ha lasciato libertà ai partiti. Questa volta ho dato scelta all'assessore su cosa è meglio fare. È chiaro che ho dato scelta perché ogni scelta comporta una conseguenza. La conseguenza è che chi dovesse rimanere anche consigliere regionale deve ovviamente garantire la presenza dei lavori del consiglio e quindi svolgere anche la funzione di consigliere regionale. Se uno legittimamente è stato eletto in consiglio regionale e ha ricevuto l'incarico d'assessore deve svolgere entrambi i ruoli. Quanto al fantomatico Mister X, cioè il potenziale assessore che il governatore avrebbe potuto tenere per sé in ragione della schiacciante vittoria con il 64% delle preferenze, 7 punti in più rispetto al passato, è probabile che la casella non occupata si trasformi in un jolly che Fedriga potrà giocarsi delle future nomine delle partecipate della regione, i ruoli di vertice in Friulia e in società Autostrade Alto Adriatico, gli slot di peso in vista di una nomina a breve.